Oggi non è un giorno qualsiasi, oggi c'è l'evento drago Volo, volo, sputo fuoco Come cazzo fa il drago? Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi siamo qui in questo nuovo video di Clash of Clans Allora ragazzi, è da tanto che non vi porto un video di Clash of Clans Quindi oggi ho preso la palla al balzo, diciamo E dato che è uscito l'evento drago ho detto Ma perché non portarlo? Che cos'è questo nuovo evento che è uscito? Anzi, questa nuova modalità diciamo Perché poi tra due giorni ci sarà anche il bonus stella per due Quindi queste nuove cose che hanno aggiunto qui su Clash of Clans Allora, l'evento del drago, come vedete, il drago costa 3700 Cioè, niente, zero proprio Poi, dobbiamo fare tre attacchi E in questi tre attacchi dobbiamo usare almeno tre draghi Dobbiamo vincere contro i nostri avversari Io già ne ho fatto uno e insieme andremo a fare il secondo e il terzo Nella speranza che facciamo almeno qualche vittoria Cioè, qualche stella Perché capisci? Ok E poi come ricompensa abbiamo 300 di esperienze e 30 gemme Che non si buttano Si pia tutto Sono curioso anche di vedere il bonus stella tra due giorni Perché per due è tanta roba Perché io adesso prendo 260.000 di oro di Elisir Di nero non ricordo Però 160.000 per due fa 520 Cioè, è tanto Tanta roba Ma ragazzi, questo è l'aggiornamento del mio villaggio Quindi, come vedete, sto continuando a fare i muri Vi faccio l'aggiornamento live Di quanti muri mancano Ne mancano 124 Meno della metà Attenzione 124 muri E con i nuovi aggiornamenti Ragazzi, costano solo 2 milioni Cioè, io ne ho fatti tipo 100 Pagandoli 3 milioni E gli altri 25-26 che ho fatto adesso L'ho pagato i 2 milioni Allora ragazzi Andiamo a fare i nostri attacchi Questo è il mio esercito Con Mongolfiere e Draghi's Guerri Che poi hanno cambiato la grafica Regà, io non la rego La grafica nuova Non lo so Non so voi, ma Alcune cose non le rego Tipo il re e la regina Sono fatti male Per me, eh Cioè, non Qualcosa di troppo Cioè, che roba è? E Mongolfiere nemmeno si vede Si vede uno scheletro che vola E vabbè Un po' di dissing Cioè, comunque Cioè, ci deve stare Quindi ragazzi Cerchiamo qualcuno da bullizzare C'ha 777 di nero 777 Allora, andiamo avanti Ehi Cioè, tu fai schifo Però c'è un bel po' di nero Ma a me non mi interessa Più di tanto Quindi attacco Allora, mettiamo i nostri draghi Mettiamo le nostre Mongolfiere dietro E poi andiamo a fare I grandi bordelli Quindi facciamo così E per il momento Per il momento Non mettiamo i reali Vediamo un po' Allora, vediamo Vediamo Questi stanno un po' così Facciamo così qua Attiviamo anche una bella velocità Anzi, mettiamo una bella velocità I draghi stanno di là Stanno attivando Trappole su trappole Allora, a me basta un 50% brutto Attacco più brutto della storia Non attaccavo con i draghi Cioè, da poco fa Perché ho fatto già il primo attacco Però non ci attaccavo Da anni Da quando facevo le tre stelle In vorre con i draghi Quindi dal municipio 8 Forse No, non è vero Ho fatto anche qualche attacco Col municipio 9 Una stella abbiamo presa Che schifo 80 di nero Vabbè che di nero Non ne spendiamo niente Perché guardate Il costo di questo esercito È di 235 di nero Cioè A posto Tutto è di nuovo pronto Perché già le avevo Aggestrati Questa è una cosa Che mi piace molto Dei nuovi aggiornamenti Quindi andiamo a prendere Queste risorse Così a caso Hanno cambiato anche qualche suono Quindi andiamo a vedere Qua Progressi 2 di 3 E andiamo a fare l'ultimo attacco Stanto utilizziamo anche i reali Voglio essere cattivo proprio Tu Fai schifo Che alla fine Poi il mio scopo Per adesso è solo fare la sfida Perché se no Se volevo fare qualcosa di Più forte Per fare proprio del male Ai miei avversari Avrei utilizzato anche dei mastini Naturalmente Quindi c'è Per me adesso è solo così Tanto per fare la sfida Perché è figa È nuova Perché non farla Allora Andiamo a mettere gli sgherri E poi andiamo anche a fare di questo Andiamo a Curare di nuovo Le nostre mongolfiere Perché stanno prendendo le scocce Perché C'ha il drago lui Nel castello Ok Questo è un po' più cattivo Come attacco Devo ammettere Allora Vediamo un po' Questi stanno a morire Vabbè Gli tiriamo pure Una velocità Ma che ce pregano Attiviamo l'abilità del re A posto Abbiamo fatto anche la nostra stella Sti cacchi Abbiamo i nostri sgherretti Che stanno prendendo Oro Così a caso Adesso prenderanno le pizze Poveracci A posto Allora grazie Ci prendiamo la nostra roba Evento completato 30 gemme E 300 di esperienza A posto Cioè Che va di più E poi ho rifatto le stesse truppe Perché comunque i draghi costano di meno Quindi c'è OGG Quindi abbiamo 89 mila 89 mila Di nero Qua dice 79 Perché poi gli altri 10 mila Stanno nel municipio La regina Come vi avevo già detto Costa 110 E il re 100 Quindi Mancano 10 Barra 20 mila Di nero Che comunque È una cifra abbordabile Quindi ragazzi Per questo video Clash of Clans è tutto Spero vi sia piaciuto Scrivetemi nei commenti Se volete anche L'evento Del bonus stella per 2 Che comunque È tanta roba Chiedete Scrivete Fate Iblood Prego portalo Se no pure Blu Fai schifo Non lo portare Però ti voglio bene Capito così Quindi ragazzi Lasciate un like Commentate Condividete Passate dal canale Se non siete ancora iscritti Telegram In descrizione Instagram In descrizione Quindi Ciao a tutti Da Bluelight